Prima superare le divisioni all'interno dell'Unione Europea, certamente, dopodiché sedersi al tavolo per trovare un coordinamento, una soluzione di tutti quanti i grandi centri di potere al mondo. Cioè certamente gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Cina e la Russia, questo non si può prescindere da questo. E' chiaro, io penso che l'Unione Europea fino ad ora ha sempre tenuto delle posizioni troppo allineate rispetto alle posizioni degli Stati Uniti ed oggi è difficile, è un po' più difficile rispetto a quanto si poteva fare nel passato, trovare delle soluzioni concordate con Cina e Russia. E questo è il punto, si è inasprita prima i nostri rapporti di cooperazione con la Russia specialmente, oggi è più difficile trovare una soluzione anche per la Corea del Nord. Grazie a tutti.